Mi chiamo Gianluca D'Antonio, sono di Napoli, ho un'azienda che si chiama GLD, mi occupo quindi di audio professionale, di luci e di automazione. L'incontro mi è piaciuto molto, ho visto dei prodotti nuovi, particolari, si capisce la provenienza nipponica perché ricchi di funzionalità particolari, molto orientati all'utilizzo pratico, quindi con un occhio anche all'installazione. Giornata sicuramente molto utile, anche divertente per carità. Sono le mie tre passioni, musica, motori e poi il mio lavoro che è l'audio professionale, quindi per me era perfetto, quindi molto 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 bello. Ho provato quella con la doppia ruota che non ricordo però il nome purtroppo e adesso ne proverò anche un'altra. Abbiamo fatto anche un bel giro fino a Big Queens, quindi molto molto divertente, molto bello.